Luca Marietta Revisore Luca Marietta Revisore Luca Marietta Revisore Luca Marietta Revisore Ok, la devo proprio fare, il testing? Vabbè, la risposta direi che si commenta la sola, ma la motivazione vera è che noi sviluppatori siamo gente che fondamentalmente odia consegnare dei codici che non funziona o è malfunzionante. Però c'è una piccola bottom line da considerare che dobbiamo scegliere con estrema attenzione che cosa testare, perché non sempre realizzare degli unit test è un processo semplice, veloce o banale. Per noi, che molto spesso cerchiamo di consegnare del buon codice ai nostri clienti, metterci a fare dello unit testing e quindi andare a caccia di bug che è quasi commessere su uno scenario di guerra. E, purtroppo, il nostro scenario di operazione in questo caso si chiama applicazione Angular, che come abbiamo visto fino adesso si tratta fondamentalmente di una composizione di componenti e servizi che hanno interazioni anche complesse tra di loro, pensate all'interazione componente col suo controller col suo relativo template, tutti i binding, l'interazione tra servizi, l'interazione tra componenti, input, output, observable e tutto quello che abbiamo visto. In più, abbiamo interazioni tra utenti e l'applicazione stessa. Perché non testarle? La cosa veramente divertente è che la gran parte di queste operazioni sono tutte asincrone. Ok. Affrontare una battaglia di questo tipo da soli è semplicemente impensabile. Dobbiamo trarre vantaggio da tutto quello che abbiamo a disposizione. e quindi inizieremo introdurrendo unit test framework e utilities di supporto. Circonderemo i nostri sistemi sottotest di tutta una serie di quelli che si chiamano test doubles, delle controfigure. Useremo metodi di instrumentation per arricchire le nostre funzioni o le chiamate alle nostre funzioni con dei metodi che possano fornirci logging, tracciature e via dicendo, più tutta una serie di utility per semplificare la scrittura di codici asincrono. Abbiamo introdotto il concetto di unit testing. Quanti di voi sanno definirmi che cos'è uno unit test? Ok. Una persona, ottimo. Io ho cercato su internet la definizione di unit test e consultando qualche altro libro ho estratto una ventina di definizioni di unit test diverse. Alcune tra loro in conflitto. Tutte si basano comunque su... Opla. Tutta una serie di punti fondamentali. Perciò definiremo unit test secondo quelli che sono i nostri tre criteri basi. Si tratta di test mirati a verificare piccole porzioni del nostro sistema software, verificare poche expectation o asserzioni per ogni singolo test e devono essere veloci per poterli eseguire più e più volte nel corso del magari sessione di sviluppo o compilazione o via dicendo. Abbiamo introdotto il concetto di test double. Che cos'è una test double? è un qualcosa che sembra o si comporta come un componente reale all'interno del nostro software. Di Faso si tratta di una controfigura ed il termine deriva proprio dalla industria cinematografica in cui si utilizzano i body double o stand double, appunto le controfigure degli attori veri in determinate situazioni anche pericolose. Abbiamo a che fare con una miriade di test double. Questa è la definizione che trovate sul sito di Martin Fowler, quindi parleremo ed utilizzeremo dei dummy object, quindi degli oggetti che sono dei semplici placeholder, che non fanno nulla. Utilizzeremo dei fake e creeremo dei fake, degli oggetti che hanno un'implementazione semplificata di quello che esiste nell'applicazione reale. Parleremo di stub. Sono degli oggetti che presentano delle risposte predefinite, sempre le stesse, specificamente disegnate per rispondere alle esigenze di determinati test. L'evoluzione degli stub sono le spies, che si comportano come una stub, in più forniscono appunto metodi di instrumentation per capire per esempio quante volte una determinata funzione è stata chiamata, se è stata chiamata e in che contesto è stata chiamata. Da ultimo ci sono i mock object, che sono praticamente dei fake pre-programmati con delle expectation da verificare per la realizzazione dello specifico test. Perché vi ho parlato di tecnologia e perché è molto importante? Perché troveremo una perfetta aderenza tra i termini che abbiamo appena definito e come andremo a realizzare ed implementare gli unit test in Angular. Partiamo dagli strumenti di base, testing framework. Utilizzeremo Jasmine, che è un framework per la scrittura di test end-to-end, scritto in JavaScript per testare applicazioni in JavaScript. Useremo Karma come nostro test runner, che è un test runner specificamente scritto per l'esecuzione di unit test di basso livello, scritto tra l'altro da membri del team di Angular 1 al tempo. e introdurremo anche l'uso di Protractor, se avremo tempo. Protractor, a differenza dei primi due, si tratta di un test framework per la scrittura di test end-to-end. Un test end-to-end è qualcosa che perfora completamente la vostra applicazione, senza simulare. Vi permette di eseguire la vostra applicazione in un contesto reale, con browser reale, interagendo con servizi reali, come se la stessa utilizzando di fatto l'utilizzatore finale. I test end-to-end, scusate se ve lo dico, sono una vera rogna, perché sono lenti, difficili da scrivere, lunghi da eseguire. Quindi focalizzeremo innanzitutto la nostra applicazione su quelli che sono, e la nostra attenzione su quelli che sono i test unitari. Fase 1, preparazione del campo di battaglia. Abbiamo parlato di una serie di strumenti e dobbiamo imparare a conoscerli e ad utilizzarli. Quindi o ci mettiamo lì e studiamo la manualistica di ogni singolo componente, quindi Jasmine come si fa il setup, Karma come si fa il setup, Protractor come lo usiamo, oppure utilizziamo dei seeding project. Per carità, è un'ottima soluzione, anzi consigliata. Partite da quelli e poi customizzate le vostre build, customizzate i vostri sistemi di unit testing con i relativi runner. In alternativa potete iniziare per i neofiti utilizzando il progetto generato per noi dalla ormai consolidata Angular CLI che incorpora in sé tutta la gestione che ci consente di creare il setup iniziale per l'utilizzo del test runner Karma, Jasmine come sistema di unit testing, come unit test framework, ed eventualmente anche Protractor. Una volta che avete generato il vostro progetto con ng-new, nomi del progetto, tutto quello che dovete fare per lanciare la vostra suite di test è chi richiamare ng-test. A quel punto partirà la compilazione, verrà invocato il test runner e verranno visualizzati i risultati del test. Di base, visto che impiega qualche secondo, vi faccio vedere direttamente il risultato della compilazione del progetto di test che avete legato a questa presentazione in cui vi mostra tutta una serie di semplicissimi test, 97 in totali, che sono state eseguiti all'interno del test runner. Non vi spaventate, non vi preoccupate, non li andremo a vedere tutti a 97 perché sono diversi modi per implementare gli stessi test implementando diversi, anzi realizzandoli secondo diverse casistiche e diversi stili. Quella è un po' la mia reference quando devo andare a scrivere dei test angular. Mi devo ricordare come faccio un test di una funzione asincrona in un determinato contesto, vado a guardare all'interno di un progetto tipo questo e mi creo il mio staff di test. Ok, strategie. Quando si parla di testing, parto consigliando due cose. Primo, lavorare in ambienti estremamente controllati. Diminuite la variabilità del vostro sistema. Teoricamente l'unico componente reale dovrebbe essere il sistema che state testando. Tutto il resto, tutti i mock-up. Eliminate la variabilità e le dipendenze esterne. L'altra cosa a cui dovete fare attenzione è mantenere le cose semplici. Evitate di utilizzare magari troppe librerie esterne al di là di quelle base del framework perché state introducendo dipendenze all'interno del vostro progetto che vanno manutenute. E soprattutto, magari, l'utilizzo di librerie troppo complicate. Sto pensando ad un paio di librerie di mocking in TypeScript. Hanno una barriera di ingresso piuttosto alta e sono difficilmente utilizzabili da membri junior del team. Quindi, quando create un progetto di questo tipo, se dovete gestire un team, fate attenzione a che cosa state utilizzando. Limitate le dipendenze il più possibile. Mio consiglio personale. Perché poi finite che sarete gli unici in grado di metterci le mani. Dal punto di vista dei test che andremo a organizzare, solitamente io suddivido i test in due categorie. Quelli che chiamo i pure unit test, che sono test in cui cerco di utilizzare soltanto le feature del framework e il test runner, e gli Angular unit test. Test un pochino più complessi, che testano l'applicazione nella sua interezza in un ambiente di runtime di Angular, che sfruttano, oltre al framework di testing e al test runner, anche le testing utilities e tutta una serie di eventuali moduli di supporto che potremmo crearci. Mi sentite bene? Io sento ogni tanto degli sbalzi sull'audio, va bene? Ok. Direi di iniziare descrivendo i nostri pure unit test. Che cosa ci consentono di fare? Anzi, qual è la filosofia alla base di un pure unit test? Mantenere le cose semplici, come abbiamo detto. Cerchiamo di utilizzare soltanto il framework e vedremo che sarà sufficiente per realizzare tutte le tipologie di test su determinati elementi dell'applicazione Angular, in particolare servizi pipe e controller del componente. Che cosa non stiamo testando? Il DOM e il binding. Che cosa non andremo ad utilizzare? Situazioni che possono rappresentare della complessità come ad esempio la dependency injection o la change detection di Angular. Tutte queste cose non sono testabili con gli pure unit test. Perché li andremo ad utilizzare? Perché di base ci consentono di introdurre determinate tecnologie e metodologie che potremmo poi riutilizzare in altri test. Ed anche perché in molte circostanze, a seconda di quello che vogliamo testare, potrebbero essere sufficienti da soli a coprire determinate sezioni critiche della nostra applicazione. Ad esempio la business logic. Se tutte le operazioni di business le astraete in dei servizi che sono indipendenti dal componente, non avete la necessità di utilizzare tool o strumenti di Angular per testare delle cose che di fatto non hanno nessun comportamento intrinseco di una classica applicazione Angular. Quindi andremo ad introdurre come funziona Jasmine, come si fa un setup dei test, come si verificano le asserzioni, che cosa sono i testdavoli e come li andremo ad utilizzare e soprattutto realizzazione di test sincroni e asincroni. In tutto questo consideriamo che abbiamo un ulteriore allato che si chiama TypeScript. Molti lo bistrattano alla realtà delle cose che per colui che scrive il test è un grande alleato ed è un gran vantaggio. Innanzitutto perché introduce il concetto di type checking, quindi di code navigation e di refactoring oltre all'intellisense. Quindi di fatto ci evita tutta una serie di errori a priori, di tipo il mistyping delle prove. Quante volte vi è capitato di fare mistyping su un'applicazione JavaScript? Se poi lo stesso mistyping lo fate nel test che dovrebbe verificare la correttezza della vostra applicazione, state sommando errore su errore. L'altra cosa è che se scriviamo la nostra applicazione in TypeScript e siamo bravi, utilizziamo tutti i componenti rispettando il type checking per le chiamate a funzioni, magari tutta una serie di test, per quanto triviali, ma che porta via tempo a realizzare, come la verifica del che cosa succede se chiamo la mia funzione con un parametro non consentito, potete magari evitare di farli e concentrarvi invece... Più vicino? Più lontano? Ok. Così è meglio? No. Ancora più lontano. Così? Perfetto. Meglio. Potete magari evitare di farli. In questo modo vi limitate la scrittura di test triviali e concentrate la vostra attenzione invece su quelli che sono i test effettivamente significativi per la vostra business logic. Ok. Di nuovo, per chi non l'avesse visto prima, vi ripropongo il link al volo al progetto di test e alle slide e cominciamo a vedere come è fatto uno unit test di fatto di Jasmine e Karma. la prima cosa che vediamo è come si... si funziona... eccolo. La prima cosa che vediamo è come si descrive una batteria di test. Describe indica l'apertura di una sequenza di test a cui possiamo dare un nome e lì vedete per esempio assegnato 00 più unit test unit angular service. Questo describe accetta una callback che definisce di fatto il corpo principale. avremo una o più sessioni before each che accettano anche in questo caso delle singole callback che servono a preparare l'ambiente di esecuzione. In questo caso voi che cosa dovete fare? All'interno di queste funzioni che cosa dovete fare? Di norma creare le istanze dei componenti sotto esame. Qui sto testando un semplice authentication service che in realtà è una roba estremamente banale. che presenta funzioni sincroni e asincrone che fanno il login dell'utente che accetta al suo interno magari una dipendenza. Non abbiamo dependency injection quindi la dipendenza è... il wiring è fatto manualmente da noi. Creiamo le istanze dei componenti che vogliamo testare. L'ultima cosa è it che definisce l'entry point del singolo test. Il singolo test in questo caso è sincrono. Anche qui una callback che costituisce quello che è il corpo reale della mia applicazione. Che cosa vado a fare? Un test sincrono. Chiamo la mia semplice funzione login del sistema under test e vado a verificare le sue asserzioni. Banalmente mi aspetto che l'utente sia logato e che lo username sia corrispondente a quello che gli ho passato. Ok, vi ho già detto che la dependency injection in questo tipo di test è esclusa. Controllate voi il vostro ambiente di test completamente. Come faccio un test asincrono? Eh, già è un po' più interessante. La sintassi nel caso in cui avessimo il sistema under test che espone una funzione che chiama un servizio in maniera sincrona, quindi la cui risposta non è disponibile immediatamente ma sarà consegnata all'interno del sistema attraverso una promise dopo non sapete quanto tempo, è questa. In questo caso Jasmine si attende come primo parametro della funzione di callback che definisce il test che voi richiamate, anzi definiate un parametro denominato done. La done function è quella che Jasmine utilizza per dire a questo punto il mio test è completato, posso passare al successivo. perché altrimenti lui non saprebbe come determinare che tutte le operazioni asincrone che voi volete testare siano terminate all'interno del test. Jasmine ha un timeout predefinito per l'esecuzione di ogni singolo test e se lo sforate dichiara il test fallito. Quindi dovete chiamare la funzione done entro un limite ragionevole di tempo. Possiamo trarre vantaggio da TypeScript per scrivere questo test asincrone in maniera un pochino più lineare e un pochino più leggibile. Immaginatevi il classico effetto albero di Natale delle promise che si concatenano una dietro l'altra a ripetizione su un test molto complesso. In questo caso abbiamo una singola chiamata quindi l'effetto non è molto visibile ma usando le keyword async await assieme alla funzione done di JavaScript possiamo scrivere lo stesso test con una sintassi che è un pochino più comprensibile per sviluppatori che magari non sono abituati a gestire situazioni di asincronicità. Qual è il problema relativo alla funzione done? Se vi dimenticate di chiamarla molto spesso succedono delle cose che sono abbastanza discutibili. Per esempio il vostro test viene marcato come completato correttamente anche se le expectations sono palesemente errate o palesemente fallite. Il risultato degli errori ve lo potete trovare non sulla console risultante dell'analisi dei test ma ve lo potete trovare sulla console di debug del browser o, ancora peggio, le expectations fallite vengono assegnate ai test successivi nella catena. vi posso far vedere direttamente un esempio apriamo per esempio la mia test suite vado nel sync async test qui ho, l'avevo già lasciato pronto un test commentato vado a decommentarlo faccio fallire palesemente la mia asserzione to be false la mia funzione login async ritorna per definizione perché è così preimpostata nella definizione del test true quindi qualsiasi utente passo sarà sempre autenticato io qui gli vado a dire attenzione io mi aspetto che questa funzione fallesca cosa non vera per le assenzioni che ho fatto nella creazione del test fate caso che non ho specificato la funzione done se salvo il mio test la compilazione automatica riparte verranno eseguiti i miei test ed ho correttamente elencata una situazione di errore ma se vado a vedere quale test è fallito mi rendo conto che il mio test no expectation are verified risulta green risulta correttamente completato mentre io so che quel test dovrebbe fallire ma i risultati dell'errore sono stati assegnati al test successivo nella sequenza che è l'authentication service done should login a user che invece eccolo qua è un test corretto quindi fate estremamente attenzione a che cosa fate quando definite dei test asincroni ricordatevi che se li state facendo utilizzando jasmine nudo e crudo senza nessuna helper function addizionale potreste incorrere in questo tipo di problemi adesso io ok ricompilo i miei test quindi mi aspetto che tra poco tutti quanti tornino green ma torniamo alle nostre slide stub object fino adesso abbiamo visto che cosa succede se utilizzo il mio servizio reale con tutti i servizi reali io ho creato in precedenza l'istanza di un authentication service reale ma se voglio creare un test come vi dicevo prima quello che devo testare è soltanto il componente che desidero testare nel mio caso l'authentication service se tutte le sue dipendenze devono essere degli oggetti di mockup un qualcosa che io definisco esplicitamente a priori in modo da avere ad ogni chiamata di funzioni che mi aspetto una risposta che sia predefinita e preimpostata per il singolo test che voglio realizzare in questo caso creo semplicemente un oggetto vuoto con l'operatore di type assertion non dico al compilatore a test script guarda quella roba si comporta come un out API service cosa che in realtà non è e implemento semplicemente la singola funzione che vorrò che venga eseguita l'evoluzione dell'evoluzione dello stub object è l'utilizzo delle spy possiamo ottenere lo stesso risultato utilizzando le feature esposte da Jasmine che ci consentono appunto di installare delle spy su quelle che sono delle funzioni del servizio reale notate un attimo questa inizializzazione ok in questo caso io sto utilizzando il mio out API service reale non lo stub che ho definito prima e lo sto iniettando all'interno del mio authentication service quello che faccio nella riga successiva è utilizzare Jasmine per dire ok dato il mio servizio la mia dipendenza del servizio reale per favore mi installi una stub sulla funzione di login questa operazione installerà tutta una serie di instrumentation function che mi consentiranno di come vediamo in questo caso modificare il comportamento della funzione runtime e dirgli ok la mia login async function in questo test deve ritornare sempre false perché magari voglio testare che cosa succede se il login dell'utente fallisce in questo secondo test magari voglio testare cosa succede se ho un errore di rete quindi la mia login spy in questo caso ritornerà un errore va bene qui si chiama un errore ma l'idea è quella di simulare una eccezione sul protocollo HTTP oltre a verificare le expectation quindi le asserzioni sul singolo test posso anche in questo caso sfruttare la instrumentation di Jasmine per verificare che quante volte magari venga chiamata la mia funzione io so che dal mio design originale la funzione login async deve essere chiamata una singola volta all'interno del componente ed in questo caso posso chiedere ok spy per favore darmi anche il conteggio di quante volte sei stata chiamata perché? perché potrebbe essere interessante o importante sapere che state violando il pattern di utilizzo e magari la vostra funzione di login è chiamata più volte all'interno della vostra funzione cosa che voi non vi state aspettando potete inoltre utilizzare un approccio combinato quindi creare uno stub object e invece che esporre le singole funzioni che si risolvono sempre in valori predefiniti preimpostati per il singolo test ma hanno anche il vantaggio di avere collegata la spy per poter fare appunto la verifica della statistica d'utilizzo delle singole funzioni una cosa interessante che possiamo fare a questo punto è precorrere un pochino i tempi e dire ok so come fare i test in versione base banalmente abbiamo visto test di soli servizi e tutto ciò che è assimilabile a un servizio quindi servizio normale le pipe che non sono altro che delle classi di funzioni di trasformazione una classe che implementa un'interfaccia che accetta degli input e metà degli output punto non ha nulla interno di relativo ad angola ma possiamo anche testare il controller dei singoli componenti una delle cose interessanti è precorrere un pochino i tempi e vedere come possiamo utilizzare alcune delle testing utilities di Angular per semplificare la scrittura di questi test abbiamo detto è importante chiamare la don't function sempre in un test asincrono bene, possiamo essere anzi richiedere agli utilities di Angular di aiutarci un pochino con la chiamata helper function async helper function async ma anche fa sì che il corpo del test venga eseguito in una specifica test async zone creata da Angular quindi che sfrutta un meccanismo che è lo stesso meccanismo che Angular usa per realizzare la propria change detection per capire quando tutte le operazioni assincrone che iniziano all'interno del test sono terminate al termine di tutte le operazioni assincrone chiama automaticamente la funzione done per noi quindi possiamo anche evitare di chiamarla esplicitamente la seconda funzione che possiamo utilizzare per semplificare rendere un pochino più bella la scrittura del test è la fake async fake async è leggermente diversa dalla funzione async perché ci consente di scrivere il test secondo una struttura che è un pochino più lineare se qua notate la verifica delle expectation avviene sul then della chiamata log in async in un stesso test rescritto utilizzando la funzione fake async possiamo utilizzare la sua compagna la funzione tick per simulare quello che è lo scorrere in avanti del tempo nel mio caso so che la mia funzione log in async impiega 500 millisecondi per terminare quindi a un certo punto del test gli dirò ok avanza di 500 millisecondi nel time dopodichè potrò finalmente verificare le mie asserzioni se leggete questo test si presenta in una forma un pochino più comprensibile un pochino più lineare soprattutto per sviluppatori che non sono abituati al mondo asincrono l'utilizzo della funzione fake async ha un pochino di problemi relativi alle chiamate xchr che non funzionano per problemi di come funziona come le zone intercettano le chiamate e ha delle difficoltà soprattutto con i timer ripetuti se state usando degli set interval dovreste poter dovreste dover utilizzare un metodo differenze per eseguire quel test sto pensando per esempio a delle observable con dei delay che internamente usano un interval e sono difficilmente testabili con un test frappato da una chiamata ad una fake async ok bello abbiamo visto come creare anzi come creare e realizzare dei test in un ambiente in cui Angular non è presente ma che cosa succede se invece vogliamo testare l'applicazione reale per l'applicazione reale intendo un qualcosa che abbia dependence injection un qualcosa che renderizzi anche il template valutare i binding e perché no verificare che cosa succede al DOM in risposta delle interazioni degli utenti e in questo caso il team di Angular ci viene in aiuto e ci offre una serie di testing utilities due delle quali abbiamo già visto in precedenza più una suite di testbed che cos'è il testbed? il testbed è una piattaforma per condurre test che siano rigolosi replicabili e trasparenti che riguardano di base teorie scientifiche tool computazionali quindi di base programming oppure tecnologie questa è la definizione che trovate su tutti i principali libri nell'ambito dello sviluppo software il testbedding è il metodo per testare una porzione limitata della vostra applicazione in isolamento i test che vengono realizzati con le Angular testing utilities sono generalmente estremamente potenti perché ci consentono di testare tutto lo spettro dei comportamenti del singolo componente ci consentono di testare anche le sue interazioni con altri componenti parametri di input ed eventi di output hanno dei piccoli punti a cui bisogna fare attenzione principalmente bisogna conoscere appunto come funzionano i test asincroni perché gran parte del mondo Angular è asincrono per natura pensate tenete sempre in mente come funziona la change detection dobbiamo inoltre considerare che la fase di inizializzazione dei test può essere estremamente più complessa di quella che abbiamo visto in precedenza perché avremo a che fare con la configurazione dei relativi moduli di testing le testing utilities sono disponibili se importiamo Angular core testing abbiamo detto la sua API principale è testbed la funzione di questa API è quella di renderci disponibile un ng module generato dinamicamente specificamente configurato per rispondere alle esigenze del nostro test quindi avremo definito e registrato il nostro componente principale più tutta una serie di test double a supporto per la realizzazione delle verifiche che vogliamo andare ad implementare qual è l'API di testbed di base c'è configure testing module accetta un oggetto che è una metadata anzi che rappresenta dei metadati che sono molto molto simili a quelli che utilizzate nella definizione del ng module classico quindi avrete la lista dei component avrete la lista dei provider avrete gli import per poter importare altri moduli e via dicendo la seconda chiamata funzione la seconda API estremamente importante è compile components perché dovete chiamarla perché se il vostro componente ha dipendenze da file esterni banalmente sto pensando ai template dei singoli componenti dichiarati magari sui template URL o dei relativi style perché volendo potete testare anche il risultato dell'elaborazione degli style CSS dovete dare il tempo all'engine di scaricare questi file, compilarli e renderli disponibili per poter essere utilizzati dal componente l'ultima API che andrete ad utilizzare più di frequente chiaramente è create component perché dovrete poter creare delle istanze dei componenti che volete analizzare oltre a testbed abbiamo a disposizione tutta una serie di stand alone testing utilities due delle quali abbiamo già introdotto in precedenza abbiamo così async che ci consente di eseguire il corpo del singolo test in una async zone particolare che è in grado di capire quando tutte le tasche asincrone che sono iniziate all'interno del test sono terminate e dichiarare il test concluso per Jasmine abbiamo, l'abbiamo già vista fake async e la sua controparte TIC che ci consentono di scrivere il test secondo una struttura un pochino più lineare e abbiamo inoltre a disposizione la funzione inject per poter sfruttare quella che è la dependency injection e quindi ottenere istanze vive dei componenti che abbiamo registrati all'interno del nostro modulo di test e da ultima le helper function esposte dalla classe by che ci consentono di avere accesso a tutto un set di utilities per la creazione di predicati che andremo ad utilizzare per navigare all'interno della struttura del DOM come risultato del rendering o dell'applicazione dei banking ok, ci sono anche altre funzioni ma direi che sono un po' troppo avanzate e adesso non ci interessano come cambia la struttura del test in un'applicazione Angular? vediamo che la struttura base è sempre quella del classico test Jasmine del classico test Jasmine più pure test quindi abbiamo di base il describe per descrivere quella che è la nostra test suite avremo la before each che in questo caso inizia direttamente ho sbagliato zoom perché ho preso quello non interattivo e inizia con la chiamata alla funzione async per dichiarare attenzione il corpo di questa funzione conterrà delle chiamate probabilmente conterrà delle chiamate a delle funzioni asincrone io vorrei che tutto il resto del test venisse eseguito dopo che queste siano state completate perché? perché di base la fase di inizializzazione del test appunto può contenere delle funzioni asincrone dicevamo prima lo scaricamento dei template se sono dichiarati su file esterni e la relativa compilazione del fake testing module che andiamo a creare quindi dopo aver dichiarato la configurazione dei moduli banalmente in questo caso è il singolo test del componente standard generato dal progetto base della Angular CLI che conterrà un solo componente chiamato a component l'equivalente delle low word tanto ci avrete giocato tutti quanti con l'angular CLI saprete com'è fatta a memoria dopo aver chiamato la configure testing module viene chiamata la compile components la compile components ha il piccolo side effect di bloccare la configurazione del modulo una volta che voi avete chiamato compile components non potete più intervenire sulla configurazione degli elementi del test che avete creato quindi se dovete iniettare nuovi elementi, nuovi servizi non potrete più farlo tenete conto di questo fatto ad un certo punto nel test avrò comunque la necessità di dover creare una istanza viva del componente che vorrò testare in questo caso testbed ci offre l'API create component che ritorna una component fixture non ritorna l'istanza viva del componente ritorna l'istanza di un qualcos'altro che wrappa il nostro componente ci consente di accedere a component instance appunto l'istanza viva del controller del componente è il componente vero potete chiamare le sue proprietà sottoscrivere i suoi metodi chiamare le sue funzioni se ne espone di pubbliche e via decendo ci espone inoltre la possibilità di accedere al debug element il debug element è un ulteriore wrapper su quello che è l'elemento del DOM del componente che abbiamo creato e ci consenterà poi di interagire con il DOM stesso per poter verificare che cosa è successo al componente prima e magari dopo l'applicazione dei binding andiamo a vedere due semplici test che coinvolgono l'utilizzo della create component il setup del test è quello che abbiamo visto nell'esempio precedente e in questo caso sto chiedendo al mio testbed di crearmi un'istanza viva dell'app component dalla fixture estraggo la component instance quindi il suo controller di base e posso verificare alcune asserzioni banalmente che il componente esista quindi non sia nullo che il mio test sia stato in grado di crearmi il componente e posso anche verificare che la sua proprietà title sia app questo per quanto riguarda il componente che cosa succede invece se voglio verificare il template in questo caso chiamo sempre la mia testbed create component si chiamo sempre il mio testbed create component ho la mia fixture posso accedere a debug element, native element e poi con tutta una serie di API che vediamo in questa sezione posso navigare all'interno di quello che è l'html generato in questo caso richiedere il primo elemento con un tag h1 se andate a vedervi come è implementato il componente di default contiene una sola riga di codice html un tag h1 con un interpolation binding sul titolo e mi aspetto che il contenuto di quel nodo sia uguale ad una determinata stringa welcome to ma noi abbiamo detto hello world quindi io mi sarei dovuto aspettare un welcome to app perchè così non è? perchè nei test in Angular banalmente bisogna capire e conoscere come funziona la change detection in Angular e nel testing di Angular la change detection automatica è disabilitata voi avete un'idea di come funziona la change detection in Angular? quanti lo sanno? ok, pochissime persone la change detection è basata sul meccanismo delle zone ve la banalizzo al massimo le zone sono un metodo per capire quando una operazione asincrona all'interno della vostra applicazione è terminata quando dovete aggiornare i binding? quando termina un'operazione asincrona perchè le interazioni dell'utente sono asincrone premo un tasto su una tastiera ed è impossibile che abbiate lì un ciclo for in loop che magari controlla costantemente lo stato dei tasti sarebbe una follia quando è il caso di aggiornare un'applicazione Angular? quando la mia chiamata al servizio mi ha restituito i dati un'altra operazione asincrona e via dicendo quindi Angular applica la change detection valuta i binding e aggiorna i DOM i template quando delle operazioni asincrone terminano ma noi vogliamo controllare completamente il nostro ambiente di testing quindi la cosa più logica da fare è disabilitare questo meccanismo e gestirlo noi manualmente quando scriviamo il test questo chiaramente complica un poco la scrittura del test perchè dobbiamo conoscere come barra quando invocare la change detection la change detection la invochiamo manualmente chiamando il metodo detect changings della component fixture che cosa ci comporta questo? che possiamo testare il componente in due stati, nello stato inizializzato non inizializzato scusate prima che i binding siano stati valutati e dopo che magari abbiamo valutato abbiamo modificato il valore di determinate proprietà l'altra cosa che, l'altra conclusione a cui ci porta questo tipo di ragionamento è che un'eventuale modifica sincrona delle proprietà del componente è invisibile per Angular io cambio il valore della proprietà title del mio component finché non chiamo la detect changes Angular non si accorge che quella proprietà è cambiata e non modificherà mai il DOM due semplici test per verificare appunto come funziona la change detection nel primo test che non è altro che la scusate la replica del precedente istanzio il mio componente non invoco la change detection ed il risultato dell'analisi del template sarà la stringa welcome to nel secondo test in cui dopo aver creato il componente esplicitamente dico ad Angular per favore change detection fai tutto quello che devi fare mi aspetto in questo caso che il template sia cambiato e il binding sia stato valutato e il modifica del contenuto del tag h1 sia completa quindi andrò a verificare che il contenuto sia in questo caso welcome to app e se il mio componente ha delle dipendenze come prima abbiamo visto il nostro servizio che accettava per attorno a un out API service che di fatto faceva le chiamate al servizio API reale le tecniche per testare questo tipo di situazione sono esattamente le stesse che abbiamo visto in precedenza quindi andiamo ad utilizzare degli stab quindi creiamo noi i nostri oggetti che andremo ad iniettare all'interno di Angular oppure andiamo a creare delle spice sul componente reale per poter modificare il comportamento della chiamata a funzione o come prima andremo a crearci un oggetto che è la combinazione di uno stab più delle spice perché magari vogliamo controllare anche le statistiche di utilizzo delle funzioni perché magari l'utente mi viene autenticato ma per quale motivo il mio authentication service deve chiamarmi la funzione di login due volte? quindi a seconda di quello che volete verificare scrivete il vostro test l'unica differenza è che in questo caso andremo ad utilizzare la dependency injection di Angular ma se noi iniettiamo qualcosa all'interno di un test mi aspetto prima o poi di dover interagire con i componenti fake che ho iniettato perché magari voglio cambiarne il comportamento prima di ogni test per verificare diverse asserzioni in questo caso come ottengo delle istanze dei miei serramizi fake? la cosa più giusta da fare secondo la specifica di Angular è quella di ottenere l'istanza del servizio direttamente dall'injector del componente voi tutti sapete che Angular ha il concetto di gerarchia di iniettori ogni componente ha il proprio injector che è in grado di servire istanze diverse di servizi e delle proprie dipendenze a seconda di come è stato configurato rispetto all'NG module a cui appartiene l'altra alternativa è utilizzare di nuovo un metodo della testbed il GET quello che abbiamo usato l'equivalente quasi di quel del create component che abbiamo visto in precedenza ma in questo caso serve ad ottenere un'istanza di un oggetto servito anzi registrato nella lista dei provider e non delle declarations oppure utilizzare la helper function inject di cui abbiamo parlato in precedenza vediamo queste cose direttamente in azione ok consideriamo questo test in cui ho definito il mio stub object di nuovo il sostituto per l'out service stub praticamente è lo stesso test che abbiamo realizzato prima nel pure testing mode quindi senza Angular proviamo a replicarlo se dovessimo usare tutta l'infrastruttura di Angular in questo caso voglio utilizzare voglio testare un greetings component quindi un componente di Angular che mi saluta ciao sono Alessandro mi sono logato che accetta come dipendenza il mio authentication service quindi utilizzo la dependence injection di Angular e non sto qui a spiegarvela perché dovreste conoscerla in cui dico ok per qualunque componente che richieda un'istanza dell'authentication service servigli anzi dagli il mio stub dagli il mio stub a quel punto posso nella before each successiva creare l'istanza del componente estrarne la component instance perché magari vorrò testarla come accedo abbiamo detto ai istanze del servizio che ho iniettato lo stub per poterlo pilotare per la realizzazione del test la cosa giusta da fare è questa tramite la fixture debug element injector quindi tramite l'injector dell'istanza del componente che ho creato vado a richiedere l'istanza dell'authentication service che gli è stata consegnata in alternativa posso usare la testbedget o la funzione di inject per ottenere lo stesso risultato perché in questo caso funziona perché lo stub è stato registrato a livello di modulo e non di singolo componente se lo stub fosse stato registrato soltanto per l'istanza del grading components quindi fosse comparso solamente nella providers list dei metadati del componente l'unico metodo effettivo che mi avrebbe restituito un'istanza concreta del servizio in esame per poterne poi alterare il funzionamento sarebbe stato il primo quindi ottenerlo tramite l'injector del componente come faccio async testing che tutto sommato è una delle cose più interessanti anche in questo caso valgono le stesse tecniche che abbiamo visto prima quindi il testing asincrono ricordandosi di chiamare la funzione done di Jasmine oppure possiamo utilizzare le due funzioni che abbiamo introdotto in precedenza la async e la fake async il comportamento intrinsecamente asincrono della natura di Angular abbiamo detto compare nella fase di inizializzazione dei test che vediamo riprodotta qua before each async testbed configure testing module in questo caso voglio testare un greetings async component l'ho chiamato async, perdonatemi il nome soltanto perché al suo interno farà delle chiamate alle funzioni asincrone del mio authentication service come lì vedete poi il resto della configurazione ma poi se guardate il test ve lo ispezionate un attimo tutto questo codice li compare con varie casistiche di testing quindi diversi modi per realizzare lo stesso test nella fase di setup successiva quindi dopo aver configurato il modulo dopo che Angular ha scaricato i template bla 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 l'ha compilato ed è pronto parte il secondo before each e se è il secondo before each semplicemente chiedo di creare l'istanza del componente mi memorizzo la sua fixture mi memorizzo un po' di cose come per esempio l'authentication service con cui andare ad interagire in questo caso sto eccolo qua in questo caso sto installando una spy su una delle funzioni per poter semplicemente magari monitorare il comportamento la mia get log user async che è la funzione che so che verrà chiamata all'interno del componente e mi memorizzo in ultimo il riferimento dell'elemento che mi rappresenta il template che vorrò poi andare a verificare testing asincrono chiamata alla funzione async di base fatelo così che cosa devo fare subito dopo? bene il componente abbiamo detto mi viene creato in uno stato non inizializzato Angular non chiama la change detection per me devo farlo io perché lo devo fare? perché in questo modo verranno innescate tutte le funzioni del ciclo di vita dei componenti banalmente nella prima chiamata alla prima detect changes che vediamo qua verrà chiamato l'ng init del componente l'ng init chiamerà il servizio che scatenerà la funzione asincrona per ottenere quello che è il nome dell'utente correttamente logato dal servizio quando è il momento di verificare le asserzioni? fixture when stable quindi la mia component fixture è in grado di interagire con l'async test zone installata all'inizio del test per capire quando tutte le funzioni asincrone iniziate del test fino a quel momento siano state completate quando la promise ritornata da when stable ritorna io so che è il momento magari di verificare le mie expectation ma di nuovo Angular non applica la change detection automaticamente quindi se voglio verificare cosa succede al template è vero che magari le mie variabili sul componente sono state modificate ma quelle modifiche non si sono ancora riflesse all'interno del template renderizzato quindi nuova chiamata detect changes non ve lo dimenticate a quel punto i binding verranno valorizzati e il mio template sarà modificato stesso test utilizzando l'accoppiata fake async e tick banalmente la stessa cosa fake async la prima chiamata al detect changes tick per dire fai passare il tuo tempo e a quel punto di nuovo fixture detect changes e verifica delle asserzioni qual è la differenza tra questi due? beh banalmente è scomparsa la chiamata quella cosa strana when stable che magari per voi può essere abbastanza aliena e la lettura del test è decisamente più lineare potete inoltre divertirvi un pochino e combinare queste cose con le keyword async e await di typescript per avere anche in questo caso una rappresentazione un pochino più lineare del test banalmente vi basta dichiarare la callback all'interno della sync come async e mettere una await prima della when stable vabbè c'è una c'è una c'è una un livello solo di nesting quindi qui è banale pensate ad un test che ha 5, 6, 7, 8 livelli di nesting vi vedete l'albero di natale che è assolutamente illegibile ci sono casi in cui comunque è necessario ricadere nella metodologia standard di realizzazione di test asincroni di Jasmine banalmente mi capita molto spesso quando testo delle observable che hanno dei delay con i timer perché? perché se uso async o fake async in quei casi zone va in errore quindi il test non viene eseguito crash anche il browser in molti casi l'unico modo che ho per fare quei tipi di test è installare delle spice monitorare che cosa succede alla spice quindi grazie alla sua instrumentation è in grado di espormi una promise che verrà risolta quando quella chiamata termina posso a quel punto decidere quando è il momento di chiamare la change detection e verificare le mie expectation tra le cose un pochino più avanzate abbiamo anche l'override della configurazione ovvero se il nostro componente se il nostro ambiente di test ha la necessità di utilizzare dei moduli esterni su cui non abbiamo pieno controllo perché non fa parte non è parte dello sviluppo del nostro team ma è un modulo esterno che noi dobbiamo importare per poter far funzionare il nostro componente oppure se il nostro componente dichiara dei servizi nella sua dependency injection list locale quelle cose non possono essere configurate a livello di testbed col configure test model perché banalmente possiamo agire solo sulla configurazione del modulo che stiamo creando dinamicamente in questo caso testbed ci offre una serie di API di override per poter sovrascrivere quella che è la configurazione preimpostata del modulo esterno in quel caso sulla destra vedete un esempio magari di un qualcosa che sta cambiando la configurazione del my component e sta sostituendo il suo service dichiarato nella sua providers con una classe service spy che magari implementa tutte le tecniche che ho visto in precedenza come testate i componenti generati dinamicamente gli entry component testbed di nuovo non vi offre un API per configurare i testing component il workaround è banale create un fake test module da usare come test dichiarate i vostri entry component all'intento di questo fake module e lo importate all'interno del modulo di test creato nella configur testbed come si testano input e output di componenti avete due modi la base è istanziate il vostro componente come abbiamo visto fare fino adesso all'interno dei nostri test le proprietà di input sono semplici proprietà del controller potete interagire direttamente le proprietà di output vengono esposte come degli event emitter sottoscrivetele e verificate quando è opportuno che cosa succede a livello della logica del componente oppure createvi un test double un host component esterno stupido banale che istanzi il vostro componente possa pilotarlo dall'esterno da ultimo una parola sul code coverage code coverage che cos'è? è una misura del grado di copertura del vostro codice che avete ottenuto da tutta l'esecuzione dei vostri test di nuovo l'angular CLI vi consente di avere un ambiente preconfigurato per l'esecuzione anche dell'analisi del code coverage sugli unit test che avete eseguito tutto ciò che dovete fare è richiamare l'NG test con quella sequenza di parametri che avete in esame e da ultimo è molto molto comodo integrare l'esecuzione dei vostri test nella vostra gestore di ciclo di vita dell'applicazione del software quindi avete un sistema di continuous integration build continuous perché non fargli eseguire continuamente i vostri test magari ad ogni commit o magari quando decidete voi il trucco è configurare Karma e i test runner per poter emettere il risultato dei test su dei file che siano parsabili dal sistema di continuous integration che state utilizzando nel mio caso utilizzo molto spesso Visual Studio Team Services queste sono le banalissime modifiche che dovete fare ai file di configurazione sulla sinistra di Karma per dirgli ok e mettimi i risultati degli unit test in formato any unit perché per me è noto so come parsarlo e mettermi il formato dei test di code coverage nel formato cobertura che è noto a Visual Studio Team Services ci scriviamo una semplicissima azione in modo da poter richiamare la sequenza dei test col node package manager run vsts test magari in questo caso l'ho chiamato verranno eseguiti i test una sola volta verranno eseguiti gli output su dei file esterni poi e chiudo quello che dobbiamo fare è semplicemente andare nel nostro tool di continuous integration configurarlo per recuperare le sorgenti configurare il anzi eseguire l'MPM install dei package eseguire il run della suite di test e poi parsare i risultati per la pubblicazione dei test di code coverage di unit test il risultato è che ad ogni magari commit all'interno del sistema i test verranno eseguiti e avrete direttamente a video nel sistema di reportistica per i vostri amministratori o magari anche il vostro project manager dello stato dell'andamento della salute del vostro progetto che cavalcata eh e quindi voi potete dire ok so come fare i test in Angular che cosa voler testare a questo punto è tutto un altro discorso che però è fuori dello scopo di questa talk allora vi lascio con l'indirizzo che vedete all'inizio nella in questa slide che è il link al joined in per poter di nuovo esprimere la vostra opinione su quello che è l'evento magari su anche la mia talk sono un ragazzo sensibile siate clementi se avete delle domande e sono in giro ancora per un po' forse avrete delle risposte se le conosco e in questa slide vi lascio i miei riferimenti per chi volesse contattarmi di solito rispondo a tutti può correre qualche giorno dipende dalla mole di lavoro ma generalmente rispondo grazie e spero vi sia stata utile grazie 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 grazie